Siamo in una cucina calabrese, vediamo lo chef Pietro che sta preparando un piatto tipico del giorno dei maiali. Cosa stai preparando Pietro? Sto preparando delle cotiche con peperoni secchi. Una ricetta molto antica, olio d'olivo, vergine, con agli e peperoncino secco. Ti piace la cucina? E' un peperoncino piccante, ci vuole, ma la cucina calabrese ci vuole. Ok, qual è la tua specialità? La mia specialità ce ne sono tante, ce ne sono specialità. Quello che ti piace cucinare di più, che cos'è? Soffritto. E ce lo fai vedere? Specialista di soffritto, anche soffritto, vi faccio vedere. Infatti stanno guardando molti amici di tutto il mondo. Io sono un attivo di Verbicaro. Allora saluta tutti gli amici di Verbicaro in America. Di Verbicaro che vi trovate in America. Sì, li compagno. Ecco qua. Questo sarebbe il soffritto di maialo. E come si prepara? Che cosa c'è dentro? Qua c'è il fegote del maiale. Poi? Fegote del maiale. Pulmone di maiale e cuore di maiale c'è qua. Cipolle. Cipolle di? Cipolle di tropeie. Coltivate a? A scalea. Ho saputo che c'è una grossa produzione di cipolle. Di cipolle sceme miceli. Ho capito. Allora ci fai vedere questo piatto. Vedi cipolle. Si vede proprio benissimo. Proprio la cipolla. Carrica di cipolle che saluta la cipolle. Magnatene proprio. Fa bene al cuore. Cuore. Anche il peperoncino piccante fa bene al cuore. E ci sono i peperoncini piccanti che ci ho messo piccanti. Il piccante quindi nella cucina calabrese c'è quasi sempre. Sempre, sempre, non quasi. Sempre, ci deve essere. Ci deve essere. E allunga la vita. Lunga la vita. Mio nonno ha 103 anni che mangia sempre il peperoncino. E beve vino. Allora se qualcuno ti richiede per fare questo piatto lo vai a preparare anche a casa. Anche a casa, anche in America vado. Ok, allora fai questo annuncio. Se qualcuno ti richiede per una specialità di cucina calabrese ci può contattare così lo metteremo in contatto con te. E fa piacere, ok? Ok, ti salutiamo. Grazie e arrivederci. Vi saluto a tutti quanti.